da oggi c'è una grande novità vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di cui studio a voi stadio abbigliamento uomo donna e bambino arredo casa e accessori esclusivi tutti con i colori della tua squadra del cuore per te o per un regalo originale non perderteli un nuovo appuntamento con è sempre derby in mia compagnia oggi mauro suma vi ritrovato mauro ciao buongiorno buongiorno a tutti beppe vigani ben ritrovato un giorno buongiorno a tutti sono passati sette giorni da il sorriso di mauro mi piace perché sono passati sette giorni da l'ultima puntata di sempre derby dove parlava appunto del derby come andata a finire allora vabbè io lo racconto beppe non c'era normalmente c'è fabrizio di asinqui e allora vi racconto quello che è successo e allora l'anno scorso in piena volata scudetto c'era juventus inter sì giusto e io ai sempre derby prima di juventus inter avevo fatto il tormentone durante la trasmissione dai fai questo pareggiotto e alla fine invece l'inter ha vinto immeritatamente però ha vinto certo l'importante era vinto e io quindi nella mia testa pareggiotto non porta bene non lo uso allora settimana scorsa ti ricorderai Biasin lo disse lui dai facciamo questo pareggiotto io l'ho guardato e sono stato zitto non gli ho detto che porta male l'ha detto due volte l'ha detto ma no vediamo cosa succede l'ha detto due tre volte pareggiotto alla fine del derby io credetemi io sono la persona più antisportiva del mondo credo si sia capito no e detesto quando qualcuno ha derby se qualcuno ha derby perso mi sfotte posso sbriciolare qualsiasi cosa e rompere qualsiasi rapporto di parentela di famiglia e di amicizia e di colleganza ecco premesso questo però gli scrivo veramente proprio in maniera soft cavolo fabri pareggiotto porta male onestamente l'avrei evitato mi risponde ah come tutte le persone brutte ti fai vivo solo quando vinci fabri figura di baci gli ho mandato un emoticon con un bacino il giorno dopo perché ho capito che era incazzato gli ho scritto guarda fabrizio a freddo una considerazione ma non ho capito ciao meno male si sono risaldati così l'ho raccontata cronisticamente com'è andata è stata una partita intensa io mi sono diritto molto un bel derby allo stadio un bel derby un bel derby aperta fino all'ultima comunque perché per quanto il mina comunque abbia sicuramente per tanto abbia meritato comunque l'inter fino all'ultimo è rimasta viva giusto beppe lei anche dalla parte dei vinti la vedi comunque come una partita in cui l'inter ha espresso un minimo di gioco comunque è andato vicino al pareggio nel finale poi è vero che il mina si è dimostrata allora io voglio voglio un po' sfatare questa perché sono almeno 18 mesi che sento dire che il milan e che l'inter è più forte del del milano non so per quale motivo boscovi diceva sempre è così boscovi diceva sempre no boscovi diceva sempre che la carta non va mai in campo cioè ti dicevano ma scriniar devrai bastoni poi vuoi mettere lautaro brozovic chissà per quale motivo allora sfatiamo un attimo una cosa barella esatto sfatiamo un attimo una cosa le partite si vincono sul campo e quando le squadre riescono a battere le rivali perché in questo caso l'inter è stata rivale fino all'ultimo del milan vuol dire che l'altro è più forte poi possiamo appellarci a qualsiasi dettaglio sfortuna episodio e anche il fatto perché io ho sentito dire è però se ci fosse stato magnane di landano vi ci avremmo vinto attenzione avere un bravo portiere un merito non è un demerito o una fortuna avere un bravo portiere noi purtroppo abbiamo un portiere che è in discesa ma si è arrivato un po alla fine di questa discussione sul portiere nel senso si prenderà una decisione o si andrà avanti a lungo sembrava ieri dalle parole appunto di musmarra di alfio diceva che che questa sera l'inter avrebbe fatto delle inzaghi avrebbe fatto dei cambiamenti uno di questo poteva essere onana ma attenzione però perché se tu fai un cambiamento poi sul portiere sai non è proprio la partita più indicata per gettare nella mischia un a meno che poi dopo sai vai tu a sapere che cosa succede nello spogliatoio ma siccome non ne ho sentita una sola ma ne ho sentite varie del tipo fuori d'unfris queste sono cose a visaglia no che arrivavano dalle presunte indiscrezioni fuori devrai scrignar dentro in mezzo d'ambrosio braccetto di destra c'è attenzione a far tutto gosens dal primo minuto cioè fare una rivoluzione copernicana voglio dire in una partita con il Bayern può andare bene perché il calcio c'ha veramente però dall'altra c'è tanto da rischiare c'è tanto da rischiare cioè fare una rivoluzione così è un rischio ma questo anche dalle dichiarazioni ad esempio di inzaghi di ieri mi ha lasciato un attimino perplesso perché perché a un certo punto gosens è diventato una eh no basta gosens è un gran giocatore sì adesso vedremo se non ha detto se giocherà dal primo minuto però improvvisamente è nata è scoccata questa scintilla con l'amore di gosens quando fino a una settimana fa fino a settimana fa sembrava con la valigia in mano per poter andare in terra di Germania però ve li sentiamo appunto in Porta Andanovic ecco vedi come grafica la difesa rimane invariata rispetto al derby a destra Darmian quindi giusto fuori Gunfries a sinistra gosens titolare in mezzo c'è la sorpresa non c'è barella c'è Mkhitaryan ah sì questo sì aveva detto anche Mkhitaryan con barella e là davanti Dzeko Lautaro condividi come scelta cioè far fuori barella non toglierei mai da esterno barella in Champions League lasciarlo in panchina col Bayern ma dunque io allora se l'ho sentito anch'io questo commento non l'ha non l'ha fatto suo in maniera intelligente Beppe quindi non è che lo dico a lui però ho sentito anch'io questo commento a portieri invertiti io sono contento di questi commenti perché se si pensa che anche questo derby sia un caso va bene ah tu dici ah sì sì cioè se non si riflette bene vi rafforza se non si riflette bene è vero è vero vi rafforza se non si capisce bene assolutamente è meglio vi rafforzi sì sì rafforza il Milan ha ragione io dico solo che da quando Stefano Pioli allena il Milan dall'inizio del campionato ci sono stati cinque derby di campionato tre li abbiamo vinti noi è un caso cioè lo scorso campione la scorsa stagione ci sono stati quattro derby uno nostro vinto uno loro vinto e due pareggi poi si può dire tutto quel che si vuole ma non è mai un caso quello che succede sul campo barella non gioca barella non è che ha giocato il derby perché così così perché in uno stato di cattiva forma aveva fatto un gol meraviglioso tre giorni prima con lo Spezia Saramica la mossa geniale di Pioli di mettergli Tonali su quella fascia perché loro avevano preparato il derby barella Dunfris su Teoleao e lì Pioli ci ha messo Tonali cioè è una mossa specifica del derby non lo stato di forma di barella io io dico questo ragazzi che io l'Inter da avversario la patisco la seguo io vedo che quando i giocatori devono andare in campo e dimostrare di essere più forti dell'avversario lo fanno con l'Ecci hanno vinto con lo Spezia hanno vinto con la Cremonese hanno vinto quando invece il livello di difficoltà si alza e l'allenatore deve darti qualcosa in più io ho visto Sarri leggere meglio Lazio Inter di Inzaghi ho visto Pioli leggere meglio Milan Inter di Inzaghi scusate a me è sembrato così la mossa di Sarri che prima scalda la partita con Vessino e poi butta dentro gli artisti nel secondo tempo Pioli che mette Tonali e che complessivamente incarta e gestisce meglio la partita anche la scelta di mettere in campo Correa dall'inizio Correa sia ben chiaro a me è un giocatore che è sempre piaciuto molto però attenzione tu metti Correa perché nel derby di Coppa Italia che hai vinto Correa e Lautaro Martinez hanno creato problemi bravo ma un allenatore come Pioli che cambia pelle ogni partita tu gli rimetti lo stesso attacco non lo so cioè io è stata tanto una sconfitta di Inzaghi da parte Inter non in generale nel derby ma no perché poi il derby certo che il derby è rimasto vivo fino alla fine mancherebbe altro che rimasto vivo fino alla fine però non confondiamo le cose non confondiamo le cose quando il derby si doveva poi ci sono le ondate emotive nei derby le ondate emotive sono una cosa la sostanza della partita è un'altra quando si è trattato di decidere la partita perché fino al gol di Brozovic il derby era assolutamente equilibrato il gol di Brozovic è una sciocchezza nostra siamo in tre su Lautaro Martinez e gli lasciamo si dimenticano il giocatore è una sciocchezza nostra ma fino a quel momentone il derby è equilibrato dal gol di Brozovic noi abbiamo fatto 40 minuti di dominio totale di dominio totale e quindi quando si è deciso il derby abbiamo giocato e dominato solo noi poi sul 3 a 1 è chiaro che c'è la reazione dell'avversario se poi l'avversario è bravo da farti gol subito allora è chiaro che prende coraggio però non confondiamo la reazione emotiva con la sostanza della partita di Inzaghi sono i messaggi che secondo me non vengono decrittati o lui manda dei messaggi sbagliati cioè con la Lazio pronti via metti i Gagliardini la famosa mossa di Gagliardini ricordiamo sul messaggio che tu dai per combattere la fisicità il messaggio che tu dai è ok ci copriamo ma poi soprattutto subito dopo il migliore in campo quello che aveva dato più problemi è stato Dunfris e lui cosa fa lo toglie per inserire Darmian se non sbaglio ok bene messaggio è che la risposta di Sarri è stata Pedro Luis Alberto io voglio vincere la partita Inzaghi aveva paura ecco questi questi sono i messaggi che lanciano poi anche Beppe dopo la sconfitta con la Lazio lui si è sentito criticato allora cosa fa per uscire lui dal focus delle critiche manda in campo la miglior formazione con la cosa tu pensi quando lì avresti potuto mettere Pioli Onana per dirti no? no per dirti il portiere sul portiere il turnover incide relativamente Beppe no 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 ma è poi è un problema è un problema che poi si trascinava però Pioli invece che va per la sua strada è solido e tranquillo anche se si becca qualche critica a Sassuolo non ha cambiato i cinque quindi non è un problema ho sentito dire ah la preparazione quale preparazione ah no ma lì la partita invece con Sassuolo abbiamo fatto tutti la stessa preparazione la gestione della partita quella del Sassuolo forse è stata un po' troppo esasperata come turnazione ma quella del Sassuolo noi non l'abbiamo fatta c'era il pensiero del derby no? non l'abbiamo fatta in funzione del derby l'abbiamo fatta in funzione del fatto che quest'anno devi fare così perché è una stagione clamorosamente anomala e tu devi hai bisogno di tutti i giocatori nella rosa lo stesso Spalletti l'ha commentata così ecco non puoi dice fai giocare sempre Benna Sert o Nani in vento poi si fa male uno dei due hai bisogno di Pobega ma Pobega è freddo e invece deve avere minutaggio Pobega o Pobega o Krunic o Vranx o chi volete voi quindi i giocatori devono essere caldi e Pioli cerca di tenerli caldi tutti allora io ho fatto delle considerazioni cioè la squadra che in vetta in questo momento è quella che non ha fatto turnazioni poi è vero che l'Atalanta non ha le coppe ad esempio fino all'altro giorno era stata anche la Roma ma la Roma poi probabilmente ha trovato un Udinese un po' secondo me migliorata nel corso delle prime 4 o 5 partite e quindi va vabbè è andata a KO poi ho visto una cosa che quest'anno più degli altri anni è molto più difficile vincere in trasferta cioè come se un campionato che si sia livellato verso il basso verso l'alto non lo so ma si è livellato e anche le squadre dietro per esempio mi viene da dire la Salernitana giocano bene il Lecce gioca bene la Cremonese gioca bene cioè attenzione perché poi probabilmente non voglio ancora rivangare il sistema calcio in Italia bla bla il livello eccetera non mi interessa parliamo del nostro campionato ed effettivamente io credo che quest'anno noi vedremo anche le squadre di punta a per fare più fatica in trasferta cioè questa considerazione ma anche per un campionato anomalo cioè dove la preparazione in alcuni casi è stata accelerata poi non so poi ci sarà il mondiale poi hai capito c'è il pensiero del mondiale per molti giocatori sì le società ma per molti giocatori che giocano in quelle squadre poi ci sarà il mondiale e dopo il mondiale come saranno alcuni giocatori che preparazione faranno chi sarà più disponibile di altri e quindi sarà un minestrone da questo punto di vista dove secondo me gestirà meglio la situazione più bravo devo correre in pubblicità preparatevi perché vi voglio fare una domanda su alcuni episodi del derby ve la devo fare sì 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 io sono qui non ho problemi ho sentito tante cose e piace anche a me vediamo vediamo un po piccola pubblicità ho accennato a questi questi episodi ma ora ovviamente partiamo andiamo in ordine il primo episodio è praticamente a partita non è ancora iniziata il famoso gesto tra cialanoglu e famoso caso tra cialanoglu e ternandez cialanoglu si rifiuta di dare la mano a ternandez inizio partita penso pensando all'episodio di fine maggio dove ci furono esultanze per lo scudetto da parte del del terzino del milan ternandez risponde con un colpettino sul capo di di cialanoglu cialanoglu trattene la maglia però finisce lì non succede nulla dunque allora io la prendo alla larga mi hanno detto dei tifosi poi non so se sia vero non ho potuto verificare ma nel caso è un'opinione come le altre quindi ci sono le opinioni se il calcio se nel calcio ci fosse solo un'opinione il calcio morirebbe mi hanno riferito alcuni tifosi che già luca rossi che non è qui presente ma tranquillamente posso dirglielo anche nelle trasmissioni in cui saremmo presenti entrambi dice che secondo lui c'è stata una corsa a provocare danfris io questo lo smentisco perché non è il modo del milan di gestire le partite però potrei pensare anch'io sono convinto che non sia vero ma potrei pensare anch'io la stessa cosa su teo arnandez provo a partire da questo episodio perché c'è questo episodio di ciala che dopo aver ritirato la maglia poi gli fa un gesto di gioco poi c'è il contatto sui o dunfris perché è vero che quando si rialzano perché lì teo subisce un fallo ma un fallo normale di gioco non è successo evidentemente l'altro gli ha detto qualcosa perché poi teo nel derby di febbraio è stato espulso quindi loro lo sanno che è caliente è stato espulso tra l'altro su un fallo proprio ai danni di dunfris ecco loro lo sanno che è caliente no quindi io potrei io sono strassicuro che non sia vero e straconvinto che non sia vero ma potrei pensare la stessa cosa ragazzi che viene ammonito dopo quell'episodio giocherà il derby col cartellino giallo per praticamente tutta la partita attenzione dopo che si alzano sul primo contrasto dunfris dice qualcosa teo reagisce male ammuniti tutte e due che secondo me l'arbitro poteva tranquillamente lì avrei evitato perché lì basta che gli fai la ramanzina tutte e due eccetera eccetera con teo già ammunito nel secondo tempo lautaro martires a un certo punto stramazza a terra senza che gli sia stato fatto niente di particolare e poi quando dunfris scatta nel secondo tempo che teo allarga il braccio se non può mettere il tappeto rosso non può dirgli vai si allarga braccio ma senza colpo senza colpire allarga il braccio no l'altro va a terra subito anche lì la richiesta la richiesta di secondo giallo e sarebbe stato un'espressione ingiusta alla luce del primo giallo tanto tanto focus e mi dicono e Matteo Hernandez doveva essere espulso l'arbitro ha deciso male guardate che la volata dunfristeo del secondo tempo l'assistente è lì a due passi guarda tutto a due passi di fronte quindi è stato l'assistente a dire all'arbitro chiffi guarda che qui non è successo niente perché il calcio è uno sport di contatto e o io ti do una gomitata o ti do un colpo fallo secondo giallo fuori dopo un primo giallo discutibile discutibile perché l'iteolo aveva preso il fallo da dunfris invece è stato l'assistente a dire guarda che quello ha allargato il braccio è un'interpretazione poi fosse stato espulso me la sarei tenuta però ecco voglio dire ma tu vedi un po' di malizia in teo Hernandez vuoi lui che è molto competitivo no lui deve stare attento a non cadere nelle provocazioni ok perché se l'avversario sa che tu puoi essere non è una tecnica non è qualcosa di doloso se l'avversario sa che tu cadi nelle provocazioni te le fa ma questo è quello che indico sono convinto che non ci fosse evidentemente una strategia né nostra su dunfris rispondo a rossi né dell'inter su teo Hernandez però se io fossi un'anima nera e guardassi gli episodi potrei farmi questa convinzione che non mi faccio e tengo lontano beh come le hai visti questi episodi insomma teo ciala ma io ho visto questo sul primo contatto e quindi sulla situazione di Dunfris teo Hernandez Dunfris non doveva essere munito Teo lo sappiamo è uno di una personalità molto spiccata quindi secondo me lì Kifi se vogliamo proprio così ha commesso come dire ha fatto un risotto ha detto diamo diamo tutte e due e buonanotte si ha voluto subito buttare acqua sul fuoco dopodiché Dunfris si è spento si è letteralmente isolato cioè Dunfris è sparito dalla partita invece la differenza ecco vedi dove c'è lì è sempre tonali lì è sempre la presenza di tonali sulla fascia lì la differenza tra la personalità chi ne ha tanta chi ne ha magari anche troppa e chi sa anche gestirla e magari si anche gestirla e chi fa fatica si è vista proprio lì dove Teo Hernandez nonostante fosse gravato di un fallo ha giocato una gara ha giocato una gara sai come per dire senza risparmiarsi senza risparmiarsi senza problemi come se non ce l'avesse l'altro invece secondo me questa è la sensazione che ho avuto io è stato molto condizionato però è un torto quello è ovvio che è un torto quindi perché i derby sono questi i derby devi avere personalità se vuoi portarli a casa non puoi sempre attaccarti all'episodio a un dettaglio eccetera i derby vanno giocati e il Milan è stato più bello c'è un altro episodio Mauro l'ultimo che voglio farti commentare la famosa questione del pallone di tonali si è parlato tanto di tonali antisportivo tonali comunque fa di tutto per non far ripartire l'Inter raccontiamo il cinema che sostanzialmente il pallone esce l'Inter riesce a battere velocemente lì tonali si ritrova il pallone vicino e lo allontana però tenendolo in campo si terminerà l'azione con il tiro di Cialanoglu e la grandissima parata di Mignan è anche lì semplice malizia dunque intanto stiamo parlando di un episodio dal punto di vista etico non dal punto di vista sportivo perché è un episodio assolutamente ininfluente io ti dico quello che ho visto io in telecronaca io ti giro la mia prima sensazione a me è sembrata quella di tonali una protesta per il fatto che la rimessa è stata effettuata in un punto diverso da dove era uscita la palla e per riprendere la partita il prima possibile da parte dell'Inter quindi lui fa una protesta tant'è che il pallone non lo butta verso Cialanoglu dove sta tirando lo butta di lato lo butta di lato lo metteva per dar fastidio però anche con i due palloni in campo l'azione è proseguita Cialanoglu ha sfiorato il gol e Mignan ha fatto una parata straordinaria quindi stiamo parlando di un episodio ininfluente poi dal punto di vista etico per carità se viene giudicato un episodio antisportivo noi siamo sufficientemente autocritici avendo Paolo Maldini a guida dell'area tecnica che è garante di queste cose in maniera trasversale cioè a Paolo Maldini non interessa se l'antisportività la fa un suo giocatore o un avversario e la considera negativamente nella stessa maniera quindi sono convinto che se verrà identificato come un brutto episodio abbiamo sufficiente spirito autocritico per affrontarlo per affrontarlo in casa nostra però io dico che nell'adrenalina di una partita in cui l'Inter stava tornando su tu dici cavolo ma la rimessa era lì cioè ecco quindi io l'ho vissuta così perché Sandro poi è un episodio questo non ho mai visto dell'antisportività in Sandro Tonali quelli che non bisogna fare la gara una cosa più brutta che sostituisce l'altra tutte eventualmente sono cose discutibili nella stessa maniera però ecco tu mi chiedi del 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 gesto di Tonali che mi sembra un episodio poi alla discussione sportiva se grave o meno io sono 20-30 anni che mi sento dire rossoneri ebrei e vorrei che questa cosa smettesse e vorrei che questa cosa finisse anche qua è stato insomma quello non è un episodio e visto che si parla sempre di Milano il termine ebrei detto in un modo in un l'altro in un senso in un l'altro non appartiene a Milano quindi se Tonali ha sbagliato è giusto dirglielo per un episodio ininfluente brutto che può apparire brutto ma ininfluente anche se io credo di aver capito cosa è successo e ho cercato di spiegarlo però questa cosa dei rossoneri ebrei è stato stancato dopo 30 anni che la sento sono abbastanza stancato il Milano è andato a interessarsi in procura per capire se può avviare un procedimento non mi interessano le punizioni non mi interessa niente io dico solo siamo nel cuore di Milano stiamo parlando nel cuore di Milano dico che a Milano sentirmi dire da 30 anni i rossoneri ebrei anche basta probabilmente quella frangia sono sempre lì lo sappiamo e purtroppo sono sempre quelli non è che tutto San Siro voglio dire sono sempre grazie a Dio assolutamente detta quindi penso che sia proprio la minoranza e tu mi insegni sempre quella minoranza e non lo stadio anche nerazzurro è strano a questa cosa questo lo so bene io so sempre dell'idea che in un gruppo le persone un attimino così è sempre una situazione endemica purtroppo le trovi sempre quindi ovviamente erano tanti quindi ne trovi di più è normale detto questo volevo dire un'altra cosa cioè vero tutto quello che vuoi è discutibile l'atteggiamento di Tonali o quello che ha fatto però c'è da dire una cosa ma se l'Inter avesse vinto il derby queste cose qua sarebbero state voglio dire al di là giusto sbagliato come diceva Mauro cioè va bene se poi il Milan riterrà opportuno va bene prenderà il giocatore ok ma al netto di questa roba qua ma se avesse vinto l'Inter il derby questa cosa qua sarebbe uscita non penso secondo me no non penso perché comunque dobbiamo un attimino però finirla no di attaccarci sempre a questi episodi io sono uno che mi avete fatto parlare di chiffi e mi dispiace nel senso che io cerco sempre di parlare meno di arbitri poi l'arbitro io sono abbastanza contrario su chi giudica l'arbitraggio come come ha fatto Sarri io sono dell'idea che ci sono quelli bravi meno bravi incapaci cioè ci sono le categorie adesso questo è un periodo in cui si parla di categoria come buona lega esatto di allegra è questione di categorie secondo me non c'è una classe arbitrale eccelsa non c'è secondo me un derby per chiffi è troppo detto questo l'arbitraggio è stato ininfluente in qualsiasi caso quindi basta se poi vogliamo sempre arrivare non c'è stato un episodio che si è rivelato decisivo il derby si gioca il derby si gioca io non voglio andare oltre a niente io guardo in campo guardo che poi è anche un po' difficile perché non sempre la squadra che gioca meglio vince e viceversa però dico che è stato giusto cioè abbiamo meritato di perdere questo derby e per me è questo che conta Mauro ho fatto una domanda a Pioli nel post partita un po' particolare tu l'hai fatta sì l'ho fatta io la risposta è stata un po' particolare anche quella te la rivelo dopo la pubblicità ho posto questa domanda gli ho chiesto visto che si veniva da derby da mesi forse addirittura da qualche anno nel concetto di l'Inter è più forte del Milan abbiamo parlato prima la Rosa mi hai detto ma mister ad oggi l'Inter su cosa è più forte del Milan ancora quale aspetto l'Inter è migliore del Milan se c'è è una domanda che ci sta se c'è l'ho detto poi l'ho chiuso se c'è lui lui sa di avere una squadra molto forte lui me l'ha driblata molto bene mi fa no ma sono tutte due squadre forti ci sono anche altre squadre forti no perché no ma qual è la risposta a questa domanda ad oggi l'Inter in cosa è forte l'Inter è più forte tu lo dici perché ti ha sempre portato bene questa frase l'Inter è più forte basta Beppe in cosa vedi con cui l'Inter superiore al Milan ci sarà un aspetto non so qualche singolo l'attacco non lo so dei reparti qualsiasi cosa della tattica da fermo un aspetto in cui tu dici l'inter è più forte l'anno scorso e sono convinto che anche quest'anno sarà così nel senso che poi lui sempre che questa storia qua contratti eccetera di Skriniar quando non si erano riusciti a prendere breme però è rimasto Skriniar ho detto meglio così posto questo a me dispiace aver perso a bremere perché ci avrebbe messo a posto la difesa non dico per sempre ma per un bel po' di anni e per una squadra che gioca a tre certo voglio dire quindi oggi sto dicendo che anche e spero che sia questione di tempo che anche la certezza Skriniar stia venendo meno dietro noi abbiamo fatto dei passi all'indietro De Vrij praticamente è la è il proseguo dello scorso anno Barella non è in condizione sto guardati sto così anche Brozovic che era effettivamente la lampadina lì in mezzo adesso sta facendo fatica il problema è che dirlo oggi è dura perché l'unico che sta convincendo è Lautaro perché anche Lautaro che non si è visto magari molto nel derby però quel pallone che difende su tre ragazzi bisogna essere veramente forti e lì dovremmo togliere non sbagliare esatto e come dire per cui io ti dico Lautaro sicuramente non faccio cambio con nessuno per quanto mi io mi tengo Lautaro loro si tengono Giroud si tengono quello che hanno Lukaku è diventato improvvisamente un po' di domanda anche se io quest'estate ma con me anche altri avevano insomma avevano comunque fatto presente che essere allenati da Conte non è essere allenati da Inzaghi e soprattutto avere il gioco di Conte per Lukaku non è avere il gioco di Inzaghi ok forse 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 dico quello che l'Inter può avere forse più del Milan è questa profondità di Rosa che finalmente ma che Inzaghi non sta sfruttando cioè quando abbiamo preso a Slani abbiamo tutti è arrivato a Slani vice di Brozovic siamo a posto a Slani anche Bellanova vice di Dunfris di Dunfris abbiamo Vichitaria vice di Ceranoglu era andato a rinforzarsi quindi è arrivato Dzeko comunque voglio dire dici beh effettivamente adesso ci siamo messi poi a Cerbi è arrivato ti dico a me non dispiace che sia arrivato poi dopo loro prendono tre giocatori under 22 under 23 noi prendiamo un 35enne ci sta noi abbiamo le pezze al sedere e loro comunque hanno una programmazione con quella filosofia hanno una programmazione diversa hanno una programmazione diversa appunto però io sulla completezza della Rosa sì poi c'è il punto di domanda di Goses che però pronti via vedi questa Rosa come fai a lamentarti come fai a lamentarti di questa Rosa sì come fai a lamentarti di questa Rosa ma perché chi è che si lamenta no perché adesso comincia a dire Asqua dei scarponi di Pippe no no c'è qualcuno capito perché è ovvio detto questo poi cioè ma con un aspetto abbiamo parlato di Lautaro sì no allora faccio l'inciso su Lautaro su quello che diceva beh lui dice tu ti tieni Lautaro io mi tengo Lautaro loro sono se c'era questo paragone Lautaro Martínez è fortissimo e su questo non si piove non ci piove però il contraltare è Leao io ero qui venerdì sera c'era l'11 contro l'11 c'era anch'io lo ricordo sì sì abbiamo fatto l'11 contro l'11 Beppe contro l'11 Mauro l'ha fatto veramente a tinta e rosso nero no dice Leao Lautaro ma perché dobbiamo votare eh no Lautaro è fortissimo io non voglio togliere niente sia ben chiaro ma se c'è Lautaro devi fare Gironde devi fare così beh perché allora ti dicevo Lautaro se c'era Perisic con diverse caratteristiche se c'era Perisic secondo me lo devi confrontare con Teo vabbè comunque dipende anche da diversi schemi di gioco certo per giovane età sì 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 ho capito voglio dire Lautaro Martínez è fortissimo ma non è che Leao è il primo che capita no 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 ha deciso il derga voglio dire questo è l'MBP dello scorso campionato questo è uno che è nei primi 30 delle nomination del pallone d'oro sì sì non mi aveva come dicevo venerdì sera credo che ve l'ho fatto abbastanza bene il pre derby come dicevo venerdì sera non ha ancora fatto gol in un derby esatto questo è l'aspetto più proprio per farlo venire fuori è stato quello l'aspetto più importante perché nella nella grandissima partita penso a partita con la Juve penso a partita con l'Inter cioè nella partita di questo tipo non era mai venuto fuori un suo gol una sua giocata decisiva invece nel derby trova due reti secondo me tutti e due anche abbastanza splendide perché il primo è un bel colpo di biliardo il secondo salta nettamente la difesa dell'Inter si conferma essere un giocatore che sta facendo una crescita costante settimana dopo settimana dopo settimana si diventano sempre più forti hai un po' di paura per giugno di perderlo ma dunque è chiaro che un giocatore così sia che abbia il contratto sia che non ce l'abbia ci devi stare attento però cosa devo fare? sperare che giochi male così nessuno me lo guarda? eh ragazzi e quando hai big poi il Milan ha sistema nervoso sufficiente per decidere se fare la mossa o se subirla no? o se trasformarla in un'opportunità questo poi appartiene al club io vi dico però che quest'estate di offerte per le AO non ne sono arrivate erano arrivate pensate nell'estate del 21 ok nell'estate 20-21 erano arrivate cifre? 40-50 e il Milan ha detto no e il Milan ha detto no quest'estate di offerte per le AO non ne sono arrivate è buon per le AO perché dove doveva andare? nella nuova Harlem Globetrotters che è il Chelsea anche il Paris Saint Germain sta lasciando quella strada il Paris Saint Germain con Galtier e Campos cercando di entrare a squadra di calcio meno figurine più giocatori adeguati al progetto ora se tu mi chiedi è buongiorno buongiorno ma sei diventato allenatore del Salisburgo a tutti è uguale abbiamo l'incursione l'incursione di Andrea Longoni l'incursione di Andrea Longoni l'incursione di Andrea Longoni è uguale mi hanno fatto impressione adesso ancora è arrivato da Salisburgo l'ho allenato ieri quindi se tu mi chiedi ma tu avevi paura che arrivasse l'offerta quest'estate sì avevo paura ma non è arrivata quindi quindi te lo godi ancora almeno altri dieci mesi te lo godi sì sì assolutamente è molto beh è sicuramente la stella assoluta del Milan in questo momento non penso ci siano giocatori sopravvoli Mignan secondo me se ne palla troppo poco nell'elenco nei famosi 30 del pallone d'oro ci sono due Leao e Mignan Mignan secondo me è stato quei colpi tipo non so mi ricordo nell'Inter Cambiasso preso a parametro zero dal qual lui non è stato preso parametro zero ma siamo a quei livelli capisci cioè nessuno pensava che questo portiere fosse addirittura così forte questo non fa rimpiangere minimamente Donnarumma poi quello visto ieri vabbè però intimamente io penso che senza Mignan non so se avrei vinto lo scudo l'anno scorso esatto sono abbastanza d'accordo è un portiere completo è un portiere personalità rassicura la difesa Minan Fiorentina quello quello che Gigio la prende non lo so io non lo so non avrei mai la controprova non lo so però un'unica sicurezza che hai però voi voda Torino-Milan palla di incrocio Gigio la prende però secondo me io vado oltre al di là delle simbole Minan Sampdoria 1-0 assista Leao dalla porta Gigio lo fa non lo so però vado oltre io credo che abbia fatto crescere la difesa Magnan con la sua sicurezza la sua 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 questo è fondamentale quello che non aveva Donnarumma cioè Donnarumma lo dico da esterno ovviamente non lo conosco come lui però da esterno io nel mio piccolo alleno da un bel po' di anni quindi voglio dire ti accorgo ecco ti accorgi quando un portiere è padrone della propria casa la casa di un portiere è l'area di rigore Magnan è un è il padrone di casa Donnarumma non era padrone di casa beh mi è piaciuta questa hai capito? non era un padrone di casa e quindi secondo me Magnan è questo è proprio il portiere tutto tondo poi addirittura perché questo è un plus non è certo perché il portiere deve parlare con le mani poi addirittura è più forte di alcuni giocatori di movimento con i piedi del centrocampista mi viene da dire perché ha dei piedi sublimi e su questo è molto bravo anche Onana che devo dire no e voglio dire siamo curiosi di vederlo quindi molto curiosi quindi voglio dire è un top player assoluto devo un attimo chiudere la parentesi del derby prima di andare in pubblicità però volevo mostrare a casa le immagini sono immagini speciali mi arrivano dalla redazione una redazione che oggi si è riunita per l'ultimo saluto a Cesare Compiglio mi sono arrivate proprio poco fa le immagini forse c'è anche l'audio che non devo verificare l'ultimo saluto al nostro Cesare Compiglio la redazione ha voluto anche dedicare una maglietta della Juventus speciale impersonalizzata per lui con le varie firme appunto di chi l'ha potuto vivere in questi anni chi ha potuto anche conoscerlo ha potuto insomma apprezzarlo come personale al di là appunto delle puntate televisive della messa in onda era una persona che ha frequentato veramente la redazione per tanto tempo con molti so che ha coltivato dei rapporti personali davvero davvero speciali queste sono le prime immagini che mi stanno arrivando questa appunto anche la maglietta Pompiglio 1 trovate su youtube anche il nostro speciale che abbiamo voluto dedicare apposta perché insomma è un membro della nostra famiglia e rimarrà rimarrà a lungo sempre un membro della nostra famiglia non ci dimenticheremo ovviamente di te Cesare ultimo blocco di sempre derby parliamo di Champions League insomma ieri ha giocato il Milan stasera gioca l'Inter insomma una partita complicata per l'Inter stasera contro il Bayern ieri il Milan si porta a casa un punto alla vigilia andava bene no? il pareggio ti andava bene là Mauro? o sognavi per forza vittoria? io combatto dal giorno del sorteggio con questa idea ah vabbè Chelsea e Milan passano sicuro insomma abbiamo visto il Chelsea e è perso in Croazia Dinamo Zagabria e Dinamo Zagabria e Salisburgo sono due squadre che vincono ogni anno il loro campionato in Austria e in Croazia quindi sono squadre padrone che giocano le partite sono squadre che non ti concedono insomma quindi quindi sapevo esattamente le difficoltà che ci sarebbero state e soprattutto a Salisburgo a Salisburgo prima della partita dovendo fare la telecronaca l'ho preparata e ho visto che il Salisburgo l'anno scorso nel girone Champions ha fatto 10 punti 9 in casa e 1 fuori in casa l'anno scorso hanno battuto il Forsburg il Siviglia e il Lilla e negli ottavi hanno pareggiato 1 a 1 col Bayern e poi hanno perso 7 a 1 a ritorno cioè in casa sua il Salisburgo è una squadra che non sempre ritrovi in trasferta perché la loro corsa la loro intensità ha bisogno anche di un po' di atmosfera quindi sapevo esattamente infatti io avevo paragonato nel pre partita Salisburgo Milan ad Atalanta Milan e infatti 1 a 1 sei soddisfatto con loro in vantaggio no soddisfatto no perché potevo perderla se Fernando dopo allora la partita all'inizio loro subito ma noi ci eravamo assestati ci eravamo assestati ha avuto un'occasione Giroud poi abbiamo preso gol in maniera balorda su una palla che era in nostra come con l'Inter ho preso gol nel momento in cui non pensavo di prenderlo e questo non va bene questo non va bene perché il gol devi prenderlo quando pensi di prenderlo sì quando vedi che l'avversario è pieno del gioco con l'Atalanta con l'Inter e col Salisburgo non pensavo di prendere gol però l'ho preso quindi male abbiamo pareggiato con l'unica azione che ci hanno concesso perché se no loro erano ferrei nell'occupazione degli spazi abbiamo avuto del campo l'abbiamo sfruttato infatti all'inizio dell'azione dico dobbiamo sfruttare dobbiamo sfruttare l'abbiamo sfruttata perché avevo capito che per come erano messi loro ti avrebbero lasciato poco poi a inizio secondo tempo loro hanno una palla gigantesca per il 2 a 1 io ho detto ah è gol Fernando l'ha messa alta in maniera incredibile poi loro sono calati nella velocità e nell'intensità ma hanno comunque creato densità certo abbiamo preso il palo all'ultimo minuto però voglio dire loro avevano avuto quell'occasione prima per cui il pareggio il pareggio va benissimo e ti ha sorpreso però anche il Chelsea che si prolla in Croazia sì però il fatto che abbiano devo capire se Tuchel è stato esonerato perché il nuovo proprietario è un po' così bene oppure se c'era Maretta in spogliatoio perché Tuchel è un tipo l'ho capito dal litigio con Conte in cui aveva strà ragione Conte in cui aveva strà ragione Conte perché Conte non è stato violento nei confronti di nessuno d'accordo d'accordissimo Tuchel deve essere un tipo un po' strano quindi magari la sconfitta di ieri a Zagabria è figlia di qualche turbolenza dentro lo spogliatoio del Chelsea sai che io credo che al Chelsea non sia passato inosservata questo suo gesto con Conte poi non so che cosa si siano detti nell'entourage all'interno del Chelsea però secondo me non era passato inosservata io la partita di ieri premesso appunto del Salisburgo eccetera la vigilia avevo sentito molti tifosi dire Salisburgo tre punti ci mettiamo già in guida così gli ho detto attenzione perché Salisburgo in Europa non è proprio facilissimo soprattutto quando gioca in casa detto questo visto la partita Milan che secondo me ha come dire all'inizio è stato non dico sorpreso però un po' anestetizzato da questo da questo pressing che facevano anche caccia all'uomo sportivamente parlando sportivamente parlando e che è una roba impressionante perché non puoi giocare con quei ritmi 90 minuti ti ammazzi cioè probabilmente lì davanti è la loro nelle loro corde è una partita la classica partita dove la puoi vincere ma la puoi anche perdere ieri poi alla fine può avere magari qualche rimpianto in Milan per quel palo preso da Leao per dire ecco parlavi di Leao ecco ho visto che ieri è stato in colore Leao però non è stato certo quello del derby non è stato il Leao però un assist però un assist e un palo cioè voglio dire però attenzione mi accontenterei Leao le sta giocando tutte 90 minuti esatto è stato esonerato anche l'allenatore dell'Ipsia Domenico Tedesco quella è una panchina che per Tuchel potrebbe interessare perché si perché cambia campionato quindi si l'Ipsia dovrebbe prenderne uno di allenatore dovrebbe prenderne uno di allenatore sarebbe perfetto per l'Ipsia De Zerbi De Zerbi sarebbe perfetto De Zerbi è una mina vagante in questo momento non avendo panchina quelle che traballano hanno tutte l'ombre a meno che sta aspettando qualche chiamata dall'Italia vi dico se Sinisa si fosse dimesso lui De Zerbi oggi sarebbe l'allenatore del Bologna ma tu non pensi che lui voglia con Sinisa esonerato De Zerbi a Bologna preferisce non andare non pensi che lui voglia una squadra invece più maggiorilandolo ti sto dicendo dove lui vuole una squadra dove può lavorare ascoltami bene se Sinisa si fosse dimesso lui ho capito De Zerbi oggi sarebbe l'allenatore del Bologna si fosse dimesso però sì perché De Zerbi non vuole andare dove vengono cacciate gli allenatori dove è stato esonerato Sinisa di Ailovic per la situazione particolare di Sinisa tra l'altro era stato proposto se non sbaglio la rescissione a Sinisa come parlavamo stamattina non è stata accettata sì perché la rescissione dimissioni a metà esatto quindi lui è stato proprio ripeto se si fosse dimesso Sinisa oggi De Zerbi sarebbe l'allenatore del Bologna invece Sinisa è stato esonerato e De Zerbi non è l'allenatore del Bologna scusami questa sera invece l'Inter cosa fa? è un po' figlia di quello che stiamo passando noi ora mi auguro che ci sia una grande reazione è più importante te la butto subito qua la domanda fare un risultato quindi portare a casa punti o una prestazione suntuosa perdere magari ma comunque esci da lì con una consapevolezza diversa l'Inter l'Inter deve andare lì e cercare di fare la partita nel possibile è una squadra che non può gestire è una squadra che non può aspettare l'avversario perché non è nelle corde farà la sua partita sappiamo benissimo sperando di non fare la vittima sacrificale ma è importante giocarsi la partita senza remore perché se il messaggio di Inzaghi è quello di Orca cerchiamo un attimino di salvare capra e cavoli prendi quattro noccioli e te ne vai a casa ok quattro perché il Bayern viene a Milano per vincere non per capire fare vedere che squadra mette in campo Inzaghi Bayern viene per vincere frega niente perché il Bayern è una squadra così è una squadra europea è una squadra che gioca per vincere gioca delicta non credo da quello che sono non credo tu dici avremmo potuto avere qualche possibilità interista tedesco lui è interista ma tedesco aveva fatto un'analisi sul nostro canale Twitch ieri sul Bayern specificando come in realtà la difesa non sia così poi funzionale ma il Bayern ha un approccio molto molto offensivo si ritrova addirittura a volte con 5 giocatori in attacco ma che giocatori ha 4 cretini e quindi così dopo se uno mi dice più importante questa partita più importante quella di di sabato mi sembra col Torino no domenica domenica gioca sì domenica allora io ti dico che non non credo a queste cose cioè l'Inter deve fare la partita sia stasera e sia vincere col Torino perché se no cominciano a esserci dei problemi questa è la formazione del Bayern con Pavard sulla destra Davies a sinistra Nandez il fratello di Teo De Ligt in mezzo quindi De Ligt per ora quotato come titolare Savitzer Kimmich Müller Coman Gnabry Mané io non saprei come descrivere questa Kimmich è fortissimo è una costellazione uno dei giocatori che mi piace di più sì sì Kimmich è fisico pazzesco ma sa fare veramente tutto vabbè dietro sai una squadra non ha non ha problemi attacca sempre che problemi ha c'ha dietro poi se prende un gol va bene poi dietro c'hanno anche due terzini che spingono parecchio un mostro che lì per questione di di grafica eccolo qua eccolo lì l'altro mostro che con i piedi ha ricevuto qualche critica recentemente meno male speriamo voglio dire almeno e niente non dobbiamo fare la vittima sacrificale soprattutto qua dentro qua nella testa anche perché è una partita che si gioca anche a livello mentale questa qua l'Inter comunque rischierebbe tra virgolette di finire terza e significherebbe andare in una paligra che sarebbero altri impegni quindi anche lì la situazione certo molti dicono gli avversari dicono speriamo che arrivi terza perché dovesse arrivare quarta è vero non è il prestigio dell'Europa però comunque sei scevro da qualsiasi impegno infrasettimanale e magari potresti avere più energie per il campionato la competizione comunque la corsa tu la fai con il Barcellona però mi pare abbastanza poi sai anche qui vai a vedere adesso per l'amor di la prima partita chi avrebbe detto che il Chelsea perdesse con la Dinamo Zagabria per dirti per cui adesso io non so in che stato è il Chelsea cioè a me se non concesso che tra virgolette è ancora la favorita del girone tra virgolette perché poi bisogna capire e se non dovesse vincere con Salisburgo il Chelsea alla fine potrebbe essere Salisburgo Milan per esempio per dirti attenzione perché siamo all'inizio dell'anno attenzione perché dare già per alcune certezze così senza ma non lo so intanto il Chelsea ha esonerato il proprio allenatore poi magari sai quando esonero un allenatore magari la squadra quella settimana fa ville però bisogna capire anche i problemi interni che ci sono nel Chelsea Mauro come la vedi la partita dell'Inter stasera? c'è la presenza dell'allenatore del Salisburgo in questo studio che mi disturba è lungo è lungo e cosa vuoi che ti dica il Bayern però mi sembra più schiacciassassi in casa che in trasferta come idea come idea poi sai anche l'anno scorso pensavamo che il Liverpool potesse fare un boccone dell'Inter invece a San Siro c'è stata partita sì c'è stata partita abbiamo perso all'ultimo come correre a Madrid l'Inter deve giocare con coraggio è chiaro che gli altri sono una corazzata poi insomma dipende molto dalle partite allora mentre si sta manifestando un fantasma il nostro Andrea Longoni ah certo l'allenatore del Salisburgo l'allenatore del Salisburgo infatti io dicevo ieri sera ma che cosa esulta Longoni quando ha segnato il Salisburgo Mauro volevo farti dire l'ultima cosa in 30 secondi questa è la maglia celebrativa del nostro store per la vittoria del derby ah che bella bella la prendo siamo noi Milan Inter 3 a 2 me la vado a prendere tanto di data abbiamo fatto solo maglie celebrative per il Milan perché tra Scudetto e derby vincolo continuamente mi auguro per l'Inter che ci sia anche una maglia celebrativa ringrazio anche Beppe ciao che sta già mettendo ansia per venerdì ditegli di lasciarmi in pace si sta mettendo adesso ci ritroviamo alle 13 qui su Top Calcio 24 per continuare appunto la nostra programmazione io vi lascio orario continuato invece su Tele Lombardia grazie per averci seguito